Eccomi qui ragazzi, ciao a tutti! Allora, dopo tantissimo tempo sono qui, io ancora non ci credo perché erano due mesi che non facevo una canzone rap, vedete voi, eh? E quindi dopo tantissimo tempo sono qui ad annunciare la mia nuova canzone rap cinese, e Beatbox, perché in questa canzone ci sarà anche un po', ma un po' di Beatbox, ok? Non dimentichiamocelo! Allora, ragazzi, questo è un remix veramente fantastico, un remix con una canzone che voi conoscete tutti quanti, quindi mi raccomando cantatela con me, ma ascoltate soprattutto tutta quanta la canzone con, come dico sempre, con, finalmente posso tornare a dirlo nuovamente di nuovo, ascoltate tutta la canzone con le cuffie, ok? E le regolari, ecco, con precisione, ok? Ok, allora, andiamo subito con la mia nuova canzone rap cinese, 3, 2, 1, via! Ketty Perry, Sui Sui, che la conoscete, ripeto, Futuring Rap Cinese, Futuring Beatbox. Insieme! Insieme! E qui, sui, sui, bis! sui sui bis e il monico ne spazio bis 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 ah 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 mmh mmh yo yo sui 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 si 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 ma non è qua j진ine swiss swiss bis BIS grazie a tutti grazie